Allora, siamo con parlato del calcio Tegliese qui al torneo 8 in Villa Gavotti, siete la seconda finalista, hai fatto due gol, complimenti. Grazie. Un commento? Bella partita, abbiamo mercato già loro nel girone, resta un pochino più facile nel girone, adesso invece oggi sono arrivati, sono stati due volte in vantaggio, è stata dura, poi con la nostra individualità e qualità siamo riusciti a ribaltarla e siamo sempre stati sul più due, però bella partita e tosta, bravi loro. Tra l'altro erano subito andati in vantaggio, poi sei riuscita a pareggiare te, poi hai fatto un altro gol importante nel secondo tempo. Eh sì, però è stata dura, comunque loro erano molto messi bene in campo, ti seguivano ovunque, bisogna essere molto bravi, giocare due tocchi e andare a fare gol come poi è successo nelle azioni, però come detto prima loro sono stati molto bravi, bella partita e siamo morti noi. Adesso siete in finale, l'ultimo atto. Siamo in finale contro l'Asla, sarà un'altra bella partita, tanti ragazzi conosco da giocavamo contro insieme, sarà una bellissima partita. Benissimo, complimenti a te, tutta la squadra, un bocca al uva per la finale. Grazie.